Salve a tutti, per prima cosa voglio ringraziarti per aver cliccato sul video. Io sono Andrea e sono il creatore del Marca Alte Graffa. Realizzo quadri di resina epossidica e nelle mie opere cerco sempre di inserire disegni fatti a mano. Voglio farti vedere oggi come ho realizzato questo quadro con più strati di resina inserendo disegni in acrilico e foglie d'oro. Per questo lavoro ho utilizzato due colori, il rosso e l'avorio. Li ho comprati su Amazon e sono della Resin for Decor. La resina che ho usato invece è della Prochima. Fammi sapere nei commenti se li hai usati anche tu e come ti sei trovato oppure se hai dei consigli su altri prodotti. Dopo aver mescolato le due parti di resina A e B ho aggiunto i pigmenti e creato i colori. Per ogni colata devi attendere almeno otto ore che il prodotto si asciughi ma io generalmente lo lascio tutta la notte. Se non l'ho già fatto ricorda di iscriverti al canale ed attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui video che faccio. Ora ti lascio al video e grazie ancora per il tempo che mi hai dedicato. E ricorda, tutto questo è arte graffa. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.